E' l'entrata da dove? Grazie a tutti. E' da otto mesi incinta, da nasce a costa. L'ecografia non l'ho fatta, non so se c'è femmina o masco. Non si è stato qui l'ecografia, non mi ha detto c'è femmina o io no masco. Tiene quindici anni, pepinella. E' aseno, 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 davvero aseno tradizionale, non è quel piccolino, è l'aseno normale. E' aseno, non amore. E' aseno, 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 aseno. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.